Ho scelto Michele Pasqualiero, con piacimento del comandante provinciale, con la seguente motivazione. Sento Ange! L'ordine della sicurezza pubblica, nel corso di un servizio perlustativo, allertato da militare libero dal servizio, interveniva nel comune di Monteforte e Pino, ovvero, dopo aver proceduto al controllo e perquisizione di iniziativa di un pregiudicato del luogo e della propria abitazione, invenivano nel consistente quantitativo di sostanza stupefacente, costituito da 8 grammi di copena, 625 grammi di marihuana, nonché 11 parenti di hashish, per un peso complessivo di un kilo e mezzo. L'operazione si concludeva con l'arresto del pregiudicato e il sequestro della sostanza stupefacente. Monteforte e il Pino, maggio 2018. Continuamento, lui, passo! Consegna la ricompensa il presidente di Confindustria, dottor Pino Bruno. Capitano Andrea Marchese, maresciallo maggiore Michelangelo Colapaolo, vicebrigadiere Graziano Laterza. Con piacimento del comandante provinciale, con la seguente motivazione. Continuamento, anche! Comandante di compagnia, comandante addetto al nucleo operativo radiomobile di compagnia distaccata, ma non comune a come investigativo, partecipava personalmente, con pressi e articolata attività d'indagine. Grazie a tutti! Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.